L'Ido Chiapparo è una spiaggia dimenticata, probabilmente sconosciuta a molti tarantini. Un posto naturalisticamente meraviglioso, ma colmo di ogni tipo di rifiuto, soprattutto quelli derivanti dall'esercizio della pesca, tra reti in plastica, cime, bue sepolte e pneumatici. I volontari del gruppo Siamo Taranto, sempre più numerosi e coordinati da Francesca Boccardi, si sono radunati per la quarta domenica consecutiva sulla spiaggia di Chiapparo, per ripulire l'ultimo tratto di costa con direzione base navale. Trovati anche tantissimi cotton fioc, Siamo Taranto rivolge un appello ai tarantini a non gettarli nei water, perché non vengono smaltiti dagli impianti di depurazione e riaffiorano in mare. Siamo intervenuti per la quarta volta in questo angolo di paradiso, perché in realtà è un posto bellissimo, dove probabilmente non è mai stato fatto un intervento, infatti stiamo rimuovendo rifiuti sepolti sotto la sabbia e tantissima roba, veramente. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, per noi la giornata mondiale dell'ambiente è ogni domenica, perché in realtà noi ogni domenica promuoviamo iniziative ecologiche, ci dedichiamo ad angoli della nostra città, soprattutto quelli più abbandonati, dove magari c'è un maggiore degrado e una maggiore quantità di rifiuti da raccogliere. Siamo un gruppo numeroso, oggi siamo veramente tanti, nonostante il caldo, però stiamo facendo un lavoro bellissimo, ci stanno aiutando anche dei bagnanti, dei fruttori di questo luogo e questo è una gioia per noi, perché sensibilizzare gli abitanti ad avere rispetto è uno degli obiettivi che si pone la nostra associazione.